Tra pochissimo sponteranno sul rettilineo, tra due anni di polla, andrà a concludersi la Coppa di Sera. Eccoli, eccoli, è il big final della Coppa di Sera 2016, eserviti il secondo anno, stritta, 40 finale, e c'è il campione d'Italia, in prima posizione, è di lui, è Francesco Cali. Vincio Francesco Cali, vince l'Emiliano, è l'Ucciso Figalli, Francesco Cali. Con Francesco Cali ci eravamo lasciati a Comano con la maglia di campione italiano, ora ci troviamo con la maglia della Coppa di Sera, veramente una stagione incredibile. Sì, addosso alla maglia della Coppa di Sera è una maglia tricolore, quest'anno sono veramente riuscito a dare il meglio di me, ciò che l'anno scorso mi era un po' sfuggito, soprattutto durante gli italiani, ma oggi non ho vinto soltanto grazie a me, ma anche a molti miei compagni che mi hanno aiutato, e che dire, all'ultimo giro credevamo di aver perso, però sulla salita siamo andati tutti in grande affare, abbiamo recuperato 50 secondi senza neanche accorgersene. Nessuno voleva tirare dopo la salita, ma ho deciso di andare, perché essendo il campione italiano una certa figura mi sembrava anche un po' indegna farle, allora ho tirato fino all'ultimo chilometro in cui abbiamo ripreso i fuggitivi, si era staccato Martignago, che era quello di cui avevo più paura in volata, perché è veramente molto veloce, ma a meno 500 metri ero veramente lontano, e la Rio sono riuscito a vincere senza problemi. A chi lo dedichi questo splendido successo, che voglio ricordare, è il secondo consecutivo che è la Coppa di Sera? Sì, è il secondo consecutivo, lo dedico a tutta la mia famiglia, alla mia squadra che mi sopporta e mi aiuta tutti i giorni, tutti gli allenamenti, al mio allenatore che potrebbe oggi non è qua, ma è aiutare una saga molto importante per lui, è venuto mio padre ad assisterci, dicendo che è il secondo allenatore, soprattutto a mio nonno che mi guarda dal cielo, è il mio zio che nonostante è distante mi aiuta e mi sorregge tanto. Giovanni Reghin, un secondo posto, però dopo la fuga, la lunghissima fuga che avete fatto, forse un po' di rammarico. Un po' di rammarico c'è, perché ci avevo sperato molto e ci hanno ripresi proprio l'ultimo chilometro, però va bene così, sono felicissimo, perché comunque è un ottimo secondo posto, c'è davanti a molti ottimi corridori di tutta Italia. Terzo posto per Davide De Pretto, un ottimo risultato, soprattutto perché proprio nelle ultime, nelle fasi finali siete riusciti a rientrare sui tre fuggitivi. Sì, siamo rientrati proprio alla fine, in salita ho provato a fare la differenza e me li ho visti a 150 metri e a cambi ci siamo andati dentro. Dopo la volata ero secondo, all'ultima curva il Reghin mi ha anticipato e ho fatto tutto per tutto per andare nel podio. Soddisfatto comunque di questo piazzamento? Sì, ora si pensa a ciò che posso. www.pianetaciclismo.it Il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it Il ciclismo, come non l'avete mai visto. www.pianetaciclismo.it